Hello? Hello? Maurizio! Sono io, ti sto ascoltando, infatti non sapevo a chi ti riferivi. No, io mi riferisco a Mauretto, perché so che Mauretto sta a Sanremo, sta seduto proprio in un bar a fianco all'Ariston con il suo cappuccino, il suo cornetto e il Mauretto. Dove si trova? Dove si trova? Oddio, ti ho sentito da lontanissimo e c'è un effetto ego che sembro il papa. Mi devo togliere le cuffie perché non riesco a comunicare. Buongiorno, anzi buonasera a tutti dall'Ariston, da Sanremo. Come va Maurizio, come va Fernanda? Fernanda, non ti sento assolutamente. Troppi collegamenti in giro per il mondo. Non so chi mi può rispondere. Siamo tutti bene. Mi senti Mauro? Mi senti? No. E allora parla con Maurizio. Allora Mauro, Fernanda ti assicuro che sta bene. Poi è San Valentino domani, quindi la finale di Sanremo oggi, insomma, quindi sta benissimo Mauro. Ma invece te a Sanremo cosa sei andato a curiosare? Raccontaci, raccontaci. Allora, vi racconto subito. C'è un effetto ego che spero che Andy possa eliminare quanto prima. Intanto partiamo con la musichina. Dai, dai, dai. Dunque, occupiamoci di Sanremo. Sono senza le cuffie perché c'è questo effetto ego, ma è il bello anche della diretta. Signore, tra pochi minuti inizia proprio la serata finale, da dove si evincerà in primis, questa già fa notizia, chi tra i cinque rischio potrà essere, comunque, potrà rientrare in gara tra gli zero assoluto, i DR Jack, Neffa, i Blue Vertigo ed anche la figlia di Zucchero Sugar Fornaciari, Irene Fornaciari. Vedremo subito chi il televoto avrà stabilito. Ho fatto ieri puntata straordinaria, secondo me, e sono stati sublimi. Sarà che, dopo averli ascoltati almeno più di una volta, le canzoni poi dopo ti entrano in testa. Secondo me, e qui mi rivolgo anche a Fernanda che ci ascolta, anche se io non riesco a sentirla, sento me che rimbombo, vabbè, ma siamo così collegati dalla Liguria e da Sanremo, quindi perdonateci perché è una cosa difficilissima quella che stiamo facendo proprio in real time, in tempo reale. Dico, secondo il parere di molti, anche qui nella sala stampa, si vocifera che i vincitori, almeno i più radiodiffusi in tutte le radio, potrebbero essere in primis la Michelin, Francesca Michelin, poi il buon Lorenzo Fragola e Dulcis in fundo, e qui lo possiamo dire, sono anche felice di dirvelo perché lui parla un po' anche della mia zona di Viterbo, un po' come Marco Mengoni, l'ex solista di Diergeco, meglio il cantante, ma ora si è staccato, parlo di Mr. Bernabèi, adesso Bernabèi che vedremo, insomma, se poi queste previsioni saranno confermate oppure no. Di sicuro si parla di quello che succederà stasera perché per la serata finale del festival, ormai lo sanno tutti, c'è ospite Beppe Fiorello, il fratello del Fiore Nazionale, Renato Zero e poi chi è cresciuto in Italia, che c'è una mia età, e qui Maurizio tu mi confermerai, cioè Cristina D'Avena è un pezzo di cuore, tutti i cartoni animati noi li abbiamo cantati grazie alla voce sua, quindi un ospite di quelli attesissimi proprio per chi amava i cartoons, chiamiamoli così. Intanto fatemi solo dire e ringraziare Baresa Kitchens perché i report live sul festival di Sanremo sono offerti da Baresa Kitchens e per una cucina moderna o classica nessuno può abbattere Baresa Kitchens per la bellezza delle sue cucine e per i suoi prezzi. Io direi che avrei finito, non so se l'effetto eco Andy continua ancora, metto le cuffie... No, va benissimo Mauro, ti sentiamo benissimo, insomma torneremo ragazzini, hai detto bene con Cristina D'Avena, Mauro, ma io ti volevo fare una domandina proprio veloce veloce perché te so che sei andato a curiosare nei camerini, allora dimmi se è vero che nel camerino di Carlo Conti c'era tutte le creme solari dopo sole, perché insomma questa abbronzatura bella tutto l'anno anche d'inverno va mantenuta, dimmi te. Ma sì che va mantenuta perché lui alla fine, dobbiamo dire la verità, caro Maurizio e Fernanda, cioè lui passa due ore e mezzo a mettersi il cerone, c'è roba è da pazzi. Facciamoglielo un applauso perché secondo me se lo merita. Applauso del teatro Harrison, tra pochi minuti si inizia, ma io vorrei andare a sbirciare, sai dove? Sì. Io lo so. Sì, è il camerino della Madalina, no? Sì, però non so se mi fanno entrare, è un attimo che proviamo, eh. Me lo immaginavo. Madalina! È al bagno, adesso non può, mi dispiace. Ah, peccato, peccato. Vabbè Mauro, comunque dopo avremo una sorpresa a fine Sanremo, quindi insomma ti seguiremo attentamente, eh. Chissà se lo vedremo, Mauretto, passare da qualche parte durante il Sanremo. Vabbè. Se vedete uno che muove le mani, sono io, quindi non vi preoccupate. Ah, benissimo. Noi magari ci ricolleghiamo dopo, speriamo che Andy possa levare questo eco perché mi sento un po' il Papa dal Vaticano mentre parlo, quindi è complicato. Però, per ora è tutto, vi faccio lavorare anche perché inizia tra pochissimo il festival e proprio da qui da Sanremo per adesso è tutto, Maurizio. Ciao Mauro, grazie, a dopo. Adesso vi passo la linea a Maurizio perché Sanremo sta per iniziare. Buon festival di Sanremo. Sì, Fernanda, allora sta iniziando il festival di Sanremo che ricordo è sponsorizzato da Baresa Kitchens, a vostra disposizione in tutto l'Ontario con la bellezza delle sue cucine e le due sedie a Toronto e Hamilton, direttamente a Sanremo. Allora riprendiamo dallo studio, stiamo seguendo la finalissima della 66esima edizione del festival della canzone italiana a Sanremo con il nostro Mauretto Cardini direttamente a Sanremo, io Maurizio in studio e la nostra Fernanda al remote dagli amici di Di Maier. E adesso, Andy, un po' di pubblicità e poi magari faremo due chiacchiere con Fernanda. State ascoltando tutto Sanremo. Baresa Kitchens a vostra disposizione in tutto l'Ontario con la bellezza delle sue cucine e le sue due sedie a Toronto e Hamilton. E che Sanremo è Sanremo! Allora, happy family day, buon San Valentino, Fernanda, ti voglio proprio interrogare. Eccomi qua, ma no, come la scuola, a scuola. A scuola, senti, sei contenta prima di tutto di questo ripescaggio di Irene Fornaciari? Sì, sì, però ero pure convinta della canzone di Neffa, mi piaceva anche la canzone di Neffa, veramente. Ho capito. Beh, però, Irene, bellissima la canzone. Senti, Fernanda, i nostri amici di Di Maier hanno preparato cose straordinarie oggi, eh? Sì, 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 una bella rosa, dei cioccolatini, siamo qua in buona compagnia di tutto lo staff di Di Maier, quindi mi raccomando, i rappresentanti sono a vostra disposizione, la giornata lo permette, nonostante è fredda, però c'è il sole ed è una giornata adatta proprio per guidare, per fare una prova guida di una di queste belle macchine. 3180 di Dufferin Street, appena a nord di Lawrence, tu la conosci bene questa concessionaria, come tutti. Comunque, ritornando a Sanremo, ritornando a Sanremo, l'entrata è stata bella, mi è piaciuto il volo, stupendi, stupendi veramente. Anche perché li abbiamo visti not too long ago. Domani è una settimana che l'abbiamo visti, è vero, sempre eccezionali. Poi hai sentito questa improvvisata così in diretta della canzone Grande Amore, è stata veramente… E anche il famoso piatto di spaghetti, perché loro, ecco, se si trovavano a Toronto il piatto di spaghetti era ancora all'italiana, New York, beh, non lo so. Evidentemente sono andati nei ristoranti sbagliati, perché ci sono tanti italiani anche che stanno negli Stati Uniti, soprattutto a New York, quindi evidentemente non hanno scelto proprio il buon ristorante, eh Fernando, è quello che penso. Ma secondo te questa Virginia, Raffaele, cosa farà stasera? Perché ieri Belen, proprio è stata una cosa formidabile, veramente eccezionale. A me è piaciuta tantissimo quando ha fatto la parte di Ferrilli. Sì, della Ferrilli veramente eccezionale, bravissima. Ci ha fatto piangere dal ridere, come si suol dire, e quindi è veramente simpatica. E poi, però io lo sai che mi piace più l'altra bellezza, io vado più per l'altra, eh, non so perché, ma... Oh, per Guinea? Sì, sì. Vabbè, quella è tutta particolare. E quiet, come dicono qua a Toronto. Sì, molto quiet, però ha veramente una bellezza eccezionale. Sì, lei è bella, è modella. Fernanda, però avvisiamo anche gli sportivi di una cosa, che si sta giocando il big match fra la prima e la seconda in classifica. In questo momento, al venticinquesimo, sono ancora sullo 0-0 Juventus e Napoli. Una partita equilibrata, direi, per adesso. Vediamo chi la spunterà. E per quanto riguarda ancora Mauro, perché lui aveva fatto la domanda, Mauro, Mauro aveva detto che tu gli avevi chiesto, ma sei andato nel camerino di Carlo Conti, tutte le... Ecco, non so se hai notato ieri che Belen, Virginia, gli ha toccato proprio la faccia a Carlo Conti, per vedere quanto trucco avesse sulla faccia. Ma infatti, dice che si abbronza così, di suo, anche a febbraio, a gennaio. Fernanda, beato lui, dico io, però insomma, dai, Carlo Conti è il mio connazionale, concittadino, quindi non si discute, si ama e basta Carlo Conti, perché fra l'altro... È bravissimo, bravissimo. Dopo Pippo Baudo, credo che sia uno dei migliori presentatori TV in Italia e quindi su questo non è che dico un'eresia. Sì, e per... Infatti questo... E adesso, Fernanda, guarda, scusami, ti devo interrompere perché si ritorna a Sanremo. Va benissimo. E ricordo, ci sentiamo dopo, eh Fernanda. Ok, ok, ok. E ricordo che Sanremo è sponsorizzato da Baresa Kitchen, le cucine dei vostri desideri, moderne, classiche, tradizionali e contemporanee, solo da Baresa. State ascoltando Tutto Sanremo. Per una cucina moderna o classica, nessuno può battere Baresa Kitchen per la bellezza delle sue cucine e i suoi prezzi. Perché Sanremo è Sanremo. Allora, rientriamo in studio dopo la pubblicità in questo momento al Festival di Sanremo, passiamo la linea subito alla nostra carissima Fernanda in esterno. Allora, Maurizio, hai visto? Che bello? Eh sì. Hai visto? Virginia ci ha sorpresi tutti, non si è travestita. Molto elegante. Molto bella. Diciamo uno spacco del vestito che fa piacere a noi uomini, Fernanda. Eh, guarda, quando l'ho vista arrivare pensavo te, Andy, Mauretto, tutti. Eh sì, mi immagino. Allora, di questi big che hanno, facciamo un riepilogo, Francesca Michelin, Alessio Bernabei, Clementino e Patti Bravo si sono esibiti con le loro canzoni. Eh, un breve giudizio, chi è il migliore in questo momento, secondo te? Beh, per adesso mi piace la canzone di Francesca Michelin e devo dire anche quella di Clementino, perché molto, quella di Clementino è molto significativa, veramente. Bene, Fernanda. Senti, Fernanda, sai che la pubblicità è l'anima del commercio, dobbiamo andare ai commercial e poi ci risentiamo più tardi. Allora, stiamo seguendo la finalissima del Festival di Sanremo, arrivata alla 66esima edizione, io Maurizio qui in studio e la nostra Fernanda invece in trasferta. Allora, fatemi fare un attimo, seguire, c'è anche la partita, è sempre 0-0, 47esimo minuto, è appena iniziato il secondo tempo e si equivalgano le due squadre Juventus e Napoli, quindi 0-0 in questo momento. Facciamo un riepilogo, allora, si è esibito come prima persona ovviamente il cantante, il giovanissimo, il vincitore della sezione giovani, Francesco Gabbani con Amen e poi in collegamento da New York abbiamo visto il volo e poi è stata ripescata, ricordo, fra i big Irene Fornaciari. Poi si è esibita Francesca Michelin con Nessun grado di separazione, poi anche Alessio Bernabei con Noi siamo infinito e Clementino quando sono lontano, veramente super tatuato e veramente in grande forma. E anche si è esibita a patti bravo con cieli immensi. Io volevo chiedere a Fernanda, se ci sta ascoltando, cosa pensa dell'attore Gabriel Gargo con questa bella giacca bianca e il papillon rosso. Ma veramente stavamo parlando prima con Ornella e stavo dicendo un po', siccome abbiamo visto Virginia che si è trasformata in queste serate, in diversi personaggi e poi ho visto anche lui, sembrava un po' un talent show. Sì, è vero. Fernanda, scusami, ti devo interrompere perché torniamo a Sanremo e ricordo che Sanremo è sponsorizzato da Baresa, vi serve una nuova cucina, andate subito da Baresa, preventivi gratuiti, eccellente servizio e prezzi imbattibili da oltre 40 anni. Sanremo Live, eccolo qua. Rieccoci qua in studio, c'è proprio un minuto e 15 secondi di pausa al Festival di Sanremo, chiamiamo subito la nostra Fernanda. Fernanda, guarda, hai detto proprio una cosa sensata, siamo tornati tutti ragazzini, mamma mia, e tutti i cartoni animati che noi guardavamo in Italia. I puffi, me le ricordo anche i puffi, madonna. Chi smilicia, oppure occhi di gatto, veramente guarda, è stata un'emozione grandissima. E allora, Fernanda, cosa mi dici di Noemi, questo suo vestito bordeaux? No, bella Noemi, bella la canzone anche, anzi, se tu hai visto il Dopo Festival ieri sera di Noemi, sono andati proprio nel camerino e tu puoi immaginare che cosa hanno potuto cacciare da quella borsa, lasagna, una pietra, di tutto. Benissimo, Fernanda, bisogna rientrare al Festival di Sanremo, che ricordo è portato da Baresa Kitchen per una cucina moderna o classica. Nessuno può battere Baresa Kitchen per la bellezza delle sue cucine e i suoi prezzi. Andiamo live dal Festival di Sanremo. Allora, rientriamo in studio, stiamo sempre seguendo la finalissima di Sanremo. Allora, vorrei intanto dare una notizia ai tifosi juventini, la Juventus ha segnato. Quindi, big match, Juventus 1-Napoli 0, credo che è stato anche un gran gol di Zaza, se non sbaglio. Comunque, ora andiamo a sentire la nostra Fernanda. Fernanda. Sì, esattamente. Benissimo, Maurizio. Allora, Fernanda, te l'hanno date anche a te le rose rosse, anche senza prova guida, giustamente. Sì, 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 infatti, tantissimi fiori sono arrivati anche da Sanremo. Tu devi vedere qua quanti fiori. Allora, Fernanda, sta iniziando Sanremo, quindi torniamo in diretta al Festival di Sanremo, che ricordo è sponsorizzato da Baresa Kitchen, a vostra disposizione in tutto l'Ontario, con la bellezza delle sue cucine e le due sedi a Toronto e Hamilton. Allora, riprendiamo la linea dagli studi dopo la canzone di Arisa, con Guardando il cielo, un minuto e dieci secondi prima di ritornare al Festival. Sentiamo la nostra Fernanda. Eccomi qua, Maurizio. Un Festival veramente bello, elegante. Allora, ritorniamo al Festival di Sanremo, che ricordo è sponsorizzato dalle cucine dei vostri desideri, moderne, classiche, tradizionali e contemporanee, solo da Baresa Kitchens. Allora, riprendiamo la linea dallo studio dopo la canzone di Anna Lisa, Il Diluvio Universale, che ha riscosso tantissimo successo e tanti applausi nel Teatro Ariston di Sanremo. Io vado a chiamare sempre la nostra collega, carissima Fernanda, nella postazione esterna. Ti è piaciuta la farfallona che ci aveva? Eh sì, bella grande. Gliel'ha regalata, immagina, tu pensa, l'amica di Virginia, che poi tra l'altro sarebbe Belen, no? Eh sì, infatti era, diciamo, si basava sulla famosa farfalla di Belen, che noi sappiamo, Fernanda. Maurizio? Fernanda, vogliamo parlare dei miei toscanacci, Leonardo Pieraccione, mi sono messo a ridere, avevo le lacrime agli occhi, veramente. Io veramente, appena le ho sentite parlare, mi babbo, mi figlio, tutte queste cose. Ho pensato subito a te, ho pensato, ho detto, eh, adesso Maurizio se la sta proprio spassando. Ma bravi veramente, ma io vorrei vedere veramente questo trio a settembre. Eh, bisogna andare a Verona il 5 di settembre per andarle a vedere, magari, eh. Quindi si abbina l'utile al dilettevole, una bella vacanza in Italia, a vedere questi comici, veramente, guarda, veramente formidabili. Comunque, per quanto riguarda Gabriel Cargo, che prima mi avevi chiesto, ecco, durante tutto il festival di Sanremo, l'avevano fatto un po' come tale e quale, con una faccia un po' finta, con quei capelli così. Stasera mi è proprio bello, proprio com'è lui naturale. Così mi piace, veramente così mi piace. Sì, è vero, è vero, è molto più naturale, più sciolto. Sì. Eh, diciamo, facciamo una battuta, legge anche meglio stasera. Sì, sì, dopo quattro giorni ha preso la mano, insomma, no? Eh, come si dice, ha fatto l'allenamento e poi ora, finalmente, è arrivato al top, come si suol dire. Eh, Ghinea, bellissima, poverina, Maddalena, l'hanno struppiata. Gli hanno detto, Maddalena, aspetta, poi, no, come l'hanno chiamata? Maialina? Maialina, esatto, e poi Maddalena o Maddalena, insomma, gli hanno, insomma, praticamente, ha voluto ribadire. Diciamo a Napoli, ci hanno struppiato un'uomo. Ci hanno struppiato un'uomo, è vero, è vero. Poverina. Insomma, io vi voglio ricordare, Fernanda, che noi staremo comunque live qui in studio fino alla, proprio all'atto conclusivo del Festival di Sanremo. E quindi, insomma, vi daremo proprio in diretta, proprio il vincitore o la vincitrice di questa 66esima edizione del Festival di Sanremo. Però, sai, saremo un po' difficili a scegliere la canzone, perché sono tutte belle, eh? Sono tutte belle. Io mi voglio sbilanciare, guarda, forse perché mi piace a me, sono un po' di parte, però a me mi piacciono le fragole, le cosiddette straberri. Lorenzo Fragola, secondo me, arriverà sul podio, dico così, vai. Sì, io penso che lui farà o terzo o secondo, penso. E quindi c'hai già il nome del vincitore, Fernanda. Beh, facciamo le formazioni, io penso questo. Piace tantissimo, mi piace tantissimo la canzone di Noemi, ok? Sì, sì. E anche Annalisa, Annalisa è stata brava anche. Eh, sì. A proposito della canzone di Noemi, ma veramente, nella borsa di una donna c'è veramente di tutto e di più, Fernanda. Sì, e poi questa è stata proprio una canzone scritta da Marco Masini, eh? Sì, sì. Marco Masini ha scritto questa canzone e c'è di tutto, c'è di tutto, c'è proprio la vita di una donna, veramente. È vero, è vero. Sì, sì, sì. E ieri sera, ti stavo dicendo, dopo il festival, hanno fatto proprio vedere, così scherzavano e sono entrati nel camerino di Noemi, e c'era una borsa sul tavolo e tu, Maurizio, hanno tirato fuori una pietra, il polipo, la lesagna, hanno tirato di tutto, le scarpe, c'era di tutto in quella borsa, è vero. Delle volte sono così pesanti le borse delle donne? Eh, no, ma infatti, vado a non me lo dire, quando mi chiedono di cercare qualcosa in una borsa della donna, mamma mia. Allora, Fernanda, allora, ci sentiamo più tardi, intanto si rientra in diretta al Festival di Sanremo, che ricordo è sponsorizzato da Baresa Kitchens, a vostra disposizione in tutto l'Ontario, con la bellezza delle sue cucine e le due sedi a Toronto e Hamilton. State ascoltando tutto Sanremo. Baresa Kitchens, a vostra disposizione in tutto l'Ontario, con la bellezza delle sue cucine e le sue due sedi a Toronto e Hamilton. Perché Sanremo è Sanremo Allora, mentre Renato Zero sta cantando un'altra canzone, noi dobbiamo passare la linea alla nostra Fernanda Nesterna. Allora, grazie Fernanda, un carissimo abbraccio. Noi torniamo in diretta col Festival di Sanremo, che è sponsorizzato, ricordo, da Baresa Kitchens. Le cucine dei vostri desideri, moderne, classiche, tradizionali e contemporanee, solo da Baresa. Rieccoci qui in studio durante la pausa pubblicitaria al Teatro Ariston di Sanremo per la finalissima di Sanremo. Sono le ore 5.54 minuti primi del pomeriggio, ancora ci sono cinque big che devono cantare, caro Andy, quindi ancora si prolungherà molto la serata. Noi staremo qui fino alle ore 8 e siamo convinti che per quell'ora il Festival di Sanremo sarà finito e quindi vi annunceremo proprio in diretta live il vincitore e poi magari abbiamo anche una sorpresa direttamente dai camerini del Teatro Ariston, il nostro Mauretto Carlini che è lì, chissà in quale camerino è in questo momento. Vabbè, facciamo un bel riassunto di questa gara fino adesso, di questa finale. Allora si è esibito come primo cantante il vincitore della sezione giovani, Francesco Gabbani, con la sua canzone molto bella e orecchiabile, Amen. Poi al secondo posto, per quanto riguarda i giovani, ricordo che si è piazzata Chiara dello Iacovo con la canzone Introverso, mentre al terzo posto è arrivato Ermal Meta con Odio le favole. Poi in collegamento da New York, in questa serata del Festival di Sanremo, c'è stata una breve intervista e il saluto a Sanremo da parte dei ragazzi del Volo, direttamente da New York, e poi è stata ripescata, ricordo, fra i big Irene Fornaciari e poi è iniziata la gara dei big per appunto decretare i vincitori. Si è esibita come prima Francesca Michelin, questa bella ragazza di nemmeno vent'anni, nessun grado di separazione il titolo della canzone. Un'entrata molto brivlante per quanto riguarda invece Madalina, che si è appunto in versione argentata, un vestito tutto, vabbè, che risalta ovviamente le forme, beata lei che ce l'ha. E poi lei stessa ha annunciato il secondo big in gara, Alessio Bernabèi, che si è esibito con Noi siamo infinito. Vestito completamente di rosso, Alessio Bernabèi. Poi c'è stata la presentazione, ovviamente, l'entrata in scena di Virginia Raffaele, che ha annunciato appunto l'altro big, Clementino, che si è esibito con Quando sono lontano. Veramente super tatuato nelle braccia e nelle mani. E poi dopo è stata la volta di Gabriel Gargo, con una bella giacca bianca, un bel papillon rosso, che ha annunciato appunto l'altra big, Patti Bravo, che si è esibita con Cieli Immensi. Loredana Bertè, direttamente dalle cascate delle gara, l'ha fatto proprio il video messaggio di incoraggiamento proprio alla Patti Bravo. Poi c'è stato l'ospite Roberto Bolle, che si è esibito appunto ballando, e poi il grande Lorenzo Fragola, con infinite volte. Dopodiché si è esibita Noemi, con la borsa di una donna. Noemi molto elegante, questo vestito bordeaux, che si è abbinato molto bene con i capelli rossi che ha, ovviamente. E poi c'è stata un'ovazione dell'altra ospite, perché noi ce la ricordiamo bene, quando eravamo ragazzini, in tutte le sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena, molto elegante anche lei, molto appunto simpatica, anche si è esibita in alcune canzoni, come la canzone dei Puffi, che vi ricordate tutti, e anche con la canzone Occhi di Gatto, oppure Chi smiliscia, insomma con alcuni brani delle canzoni molto amate da noi italiani, quando eravamo appunto ragazzini. Poi sono entrati in gara Elio e le storie tesi con Vincere l'Odio, e poi anche Arisa, gli stadio, Anna Lisa, e poi c'è stato Renato Zero, che ha fatto veramente uno show incredibile, forse ha detto, come il titolo del suo nuovo album, Alt, forse si fermerà per un po', saremo a vedere, e poi Rocco Ant con Wake Up. E adesso torniamo direttamente al Festival di Sanremo in diretta, e ricordo che è sponsorizzato il Festival di Sanremo dalle Cucine dei Vostri Desideri, moderne, classiche, tradizionali e contemporanee, solo da Baresa Kitchens. Rieccoci qui in studio, sono le ore 18 e 24 minuti primi, fa freddissimo, però noi ci stiamo finalmente scaldando, grazie alla musica del Festival di Sanremo, serata finale. Allora, si è appena conclusa la canzone di Valerio Scano, con Finalmente Piove, un Valerio Scano molto posato sul palco, molto educato, diciamo così, fra virgolette. Mi è piaciuta molto questa canzone, così come mi è piaciuta molto, devo dire, anche l'interpretazione di Giovanni Caccamo e Deborah Iurato con Via da qui, due ragazzi si vede che sono molto posati. Enrico Ruggeri è il solito grande, il solito grande sul palco, sa come muoversi, c'è un'esperienza veramente incredibile, questa bella giacca in pelle rossa che ha cantato questa canzone, molto piacevole, anche radiofonicamente, il primo amore, non si scorda mai. Poi si è esibita, prima di Enrico Ruggeri, anche Dolce Nera, che sa suonare veramente perfettamente anche il pianoforte, si è esibita con la sua canzone Ora o mai più le cose cambiano. Cosa dire del cantante Rocco Hunt, che si è esibito con Wake Up? Lui è veramente, coinvolge il pubblico con le mani, con i movimenti, non sta mai fermo sul palco, veramente un tarantolato, passatemi questo termine, sul palco, però è un ragazzino giovane, ha tanta energia e voglia di fare, quindi insomma è da apprezzare. E so che il nostro Mauretto Carlini, ad esempio, ha preso questa sua canzone, ha scritto proprio lui, e glielo chiederò magari più tardi, questa canzone Wake Up per il suo programma e poi l'ha data appunto a Rocco Hunt per cantarla. Ma a parte le battute, vi volevo soffermare sul grande ospite, è la Standing Ovation che si è effettuata per Renato Zero, che ha fatto veramente uno show incredibile, io lo chiamerei uno show dei ricordi, ha fatto uno spettacolo, ha cantato delle canzoni che sono rimaste veramente nel cuore di tutti noi e poi, secondo me, fra le righe ha lanciato il messaggio che si è fatto un po' da parte. L'ha proprio dichiarato proprio a Carlo Conti, che è anche il titolo del suo nuovo album, Alt, fa pensare che è arrivato il momento, come lui stesso ha detto, di fermarsi un po' e iniziare un po' a pensare ad altre cose, che non siano solamente la musica, i spettacoli e i concerti. Renato Zero è sicuramente uno dei numeri uno della musica leggera italiana, è veramente un grande, ha avuto una Standing Ovation pazzesca del Teatro Ariston, tutta meritata ed è sempre lui. Gli anni passano, ma quando la voce c'è, la voce è quella, ovviamente si è sempre i numeri uno. Cosa dire di Anna Lisa, che ha cantato Il Diluvio Universale, una canzone che a me mi piace come canzone molto radiofonica, e poi, ovviamente, per parlare, perché no, degli stadio, con Un giorno mi dirai, la solita tonalità, la solita voce, veramente sono dei grandi artisti di stadio, mi piacciono personalmente, si riconosce subito il tipo delle canzoni che cantano, e poi, ovviamente, prima degli stadio si era asibita anche Arisa, con Guardando il cielo, canzone molto bella anche questa, e sarà difficile, sono molto curioso di vedere il momento delle votazioni, perché sono canzoni tutte più o meno equivalenti, ovviamente io lo ribadisco, mi piace molto, ed è molto orecchiabile la canzone di Lorenzo Fragola, con Infinite Volte, ma devo dire anche Alessio Bernabei, Non Siamo Infinito, devo dire che è una canzone molto bella. La mia preferita fra le donne è sicuramente quella di Francesca Michielin, Nessun Grado di Separazione. Sono veramente curioso di vedere come andrà a finire, ricordo, hanno cantato 15 big, quindi siamo quasi alla fine, perché canterà la ripescata adesso, dopo quando si rientrerà in diretta con il Festival di Saremo, Irene Fornaciari con la sua canzone, e quindi poi dopo si procederà tutto al meccanismo delle votazioni, e staremo a vedere. Ricordo che intanto gli applausi di Sanremo sono andati sicuramente a Francesco Gabbani, che ha vinto la sezione Giovani, con la sua canzone Amen, secondo me giustamente, perché un artista, è un giovane molto spigliato sul palco, sa il fatto suo, ha ringraziato, ha giustificato, diciamo così fra virgolette, la vittoria, dicendo che se uno crede in quello che fa, crede all'obiettivo che deve raggiungere, poi questo obiettivo via via si va avvicinando, e quindi Francesco Gabbani è riuscito, nell'intento di vincere la sezione Giovani di Sanremo. Ricordo che per le cover sono stati gli stadio, il premio delle cover, il primo posto è andato agli stadio. Allora, mentre ancora non si rientra al Festival di Sanremo, non so se in San abbiamo commercials o no, non abbiamo commercials, e quindi visto che sto vedendo adesso il risultato, parliamo, stacchiamoci un attimino dalla musica, e dal Festival di Sanremo, perché oggi c'è stato il big match, per quanto riguarda il calcio, in Serie A. La Juventus ha battuto il Napoli per 1-0, solamente all'ottantottesimo, con un gran gol, a dire la verità, un tiro formidabile da lontano di Zaza. Si sta rientrando a Sanremo, quindi prego i Sun di tornare, ma ricordo che il Festival di Sanremo Live è sponsorizzato da Baresa Kitchens, che è a vostra disposizione in tutto lontario, con la bellezza delle sue cucine, e le due sedi a Toronto e Hamilton. Rieccoci qua in studio, è il momento, si fa caldo, direi caldissimo, perché siamo per scoprire chi vincitore, il podio del Festival di Sanremo, la 66esima edizione. Ricordo, 16esimo posto per Irene Fornaciari, 15esimo posto con Dolce Nera, 14esimo è arrivato Alessio Bernabei, 13esimo posto per Valerio Scanu, il dodicesimo posto invece Elio e le storie tese, undicesimo posto Anna Lisa, al decimo posto votazione per Arisa, al nono posto con il disappunto in sala di tutto il teatro Ariston, Rocco Ant, ottavo posto si è piazzata Noemi, al settimo posto Clementino, al sesto posto Patti Bravo con i fischi addirittura del teatro Ariston, qualche fischio si è udito, quinto posto per Lorenzo Fragola con chiaro disappunto appunto del pubblico del teatro Ariston, quarto posto con disappunto anche qui per Enrico Ruggeri. Quindi, gli stadio, io ho sentito un coro, abbiamo tutti sentito in coro il pubblico che urlava stadio stadio, forse saranno loro i vincitori, o forse questa Francesca Michelin, dai, quasi 20 anni, una ragazza semplice con una voce fantastica, io, scusatemi, io faccio il tifo per lei, senza appunto fare disappunto agli altri, e poi la coppia che potrebbero anche loro ovviamente vincere, fra Giovanni Caccamo e Deborah Iurato con la canzone Via da qui. Una di queste tre appunto sarà la vincitrice della 66esima edizione del Festival di Sanremo, sono momenti bollenti che noi seguiamo fino all'ultimo e poi dopo il Festival avremo anche una bella sorpresa, direttamente nei camerini del Teatro Ariston in diretta dall'Italia, una bellissima sorpresa per tutti voi. Allora, stiamo aspettando perché siamo impazienti anche noi a questo punto, siamo tutti agitati, nervosi e curiosi, soprattutto di scoprire chi vincerà questa edizione del Festival di Sanremo, non lo so, alcuni maschietti che mi mandano i messaggi, sperano ovviamente che vinca Francesca Michelin, io dico che sono d'accordo con loro, però da come ho sentito il tifo del pubblico proprio direttamente lì a Sanremo, mi sa che forse vinceranno gli stadio, ho questa impressione, ma perché non sperare ad esempio che fra i due litiganti, i terzi godono in questo caso Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Insomma, pochissimi istanti e poi sapremo tutto. Intanto noi siamo ancora qui ad aspettare che si rientra nel Teatro Ariston e ricordo velocemente la classifica finale fino al podio che è la seguente, quarto posto per Enrico Ruggeri, quinto Lorenzo Fragola, sesto posto Patti Bravo, settimo posto per Clementino, ottavo posto con Noemi, nono posto il napoletano Doc Rocco Ant, decimo posto per Arisa, undicesimo posto per Annalisa, dodicesimo posto Elio e le storie tese, tredicesimo posto Valerio Scanu, quattordicesimo posto per Alessio Bernabei, quindicesimo posto per Dolce Nera, sedicesimo posto con la ripescata, fra l'altro Irene Fornaciari. Insomma, ci avviciniamo ancora qualche istante, non si riparte, facciamo sicuramente gli applausi anche a Beppe Fiorello, che ha fatto questo suo intervento, come avevamo fatto ascoltare, il re delle fiction, si dice così, e quindi insomma ha fatto un intervento molto giusto, molto pacato, insomma è veramente bravo, Beppe Fiorello è veramente bravo, è molto amato dal pubblico, e il Teatro Ariston glielo ha dimostrato, tutto il suo amore applaudendolo in maniera veramente eccezionale, e poi ovviamente fra gli artisti big che si sono esibiti, io voglio mettere proprio l'asterisco, proprio su Patti Pravo, perché a me Patti Pravo mi è sempre piaciuta come cantante, però secondo me la sua canzone, Cieli Immensi è stata veramente, mi ha fatto rivivere delle scene del passato, e quindi sicuramente un grande applauso, un grande applauso si merita anche Enrico Ruggeri, che per un po' proprio, per un pochino non è salito sul podio, perché si è classificato appunto al quarto posto, insomma siamo in trepida attesa del podio, stiamo per rientrare, ricordo che il Festival di Sanremo Live, vi è presentato da Baresa Kitchen, a vostra disposizione in tutto lontario, con la bellezza delle sue cucine, le due sedi a Toronto e Hamilton, voliamo in diretta al Festival di Sanremo. Eccola qua, riproposta in diretta da Sanremo, la canzone vincente di Sanremo 2016, gli stadio, un giorno mi dirai, secondo posto per Francesca Michielin, terzo posto con Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Ma c'è un amico, c'è un collega, che si è infilato nei camerini, ed è direttamente lì, e sta vedendo proprio la premiazione. Mauro! Ma sì, mi sono nascosto un attimo, innanzitutto, buonasera a tutti, qui è notte, ma abbiamo vissuto proprio, con il clamore di questa vittoria, Maurizio, un po' in, non voglio dire inaspettata, perché la fine è un bel singolo, proprio degli stadio, però è stata una sorpresa, hanno vinto tutto, i premi per la serata delle cover, poi andando a memoria, se la memoria non mi inganna, perché poi a quest'ora, qui sono quasi le due di notte, quindi mi dovete anche perdonare, però hanno anche preso il premio alla miglior musica, Giancarlo Bigazzi, e poi anche il premio della sala stampa, quindi insomma hanno preso tutto, hanno vinto tutto, hanno lasciato solo il premio Sergio Bardotti a Francesco Cabani, il premio della critica a Mia Martini a Patti Pravo, se no facevano un plane, c'è da dire. è vero, è vero, guarda, a me mi è dispiaciuto tanto, e so che te sei lì a Sanremo, proprio per consolarla in questo momento, la giovanissima Francesca Michelin, così tenera, che forse, oddio, è stata molto contenta ovviamente, di arrivare dopo gli stadio, al secondo posto, però magari sarebbe stato bello vederla vincere. Ma visto che siamo a Sanremo, la posso mettere alla basina di Sanremo? Ma certo! Orchestra, attaccate la musica! Che bello! Perché è finito Sanremo, ma noi siamo qui nella città dei fiori, e la povera Francesca Michelin, Maurizio, cioè, lei era felicissima, però c'ha questo visino così innocente, così naiva, che quasi ti viene voglia di dargli pizzicotti, come a Francesco Fragola, però che non me ne vogliano le signore, io e Maurizio abbiamo un occhio di riguardo, per la Michelin, o come dico io, Michelin, mi sbaglio Maurizio? No, la Michelin, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo, ma te ce l'hai anche per una dolce nera, diciamo così, è vero o no? Ecco, vabbè, vabbè, dolce nera c'ha un sorriso accattivante, una voce incredibile, guardando la classifica, vedendola penultima, sinceramente non comprendo, cioè, penultima, con un pezzo, che secondo me alla radio funzionerà bene, per me, serio, disappunto anche per Alessio Bernabèi, noi siamo infiniti, perché è un pezzo segnalato un po' da tutte le etichette discografiche, dagli altri addetti ai lavori delle radio che ho incontrato, che sarà una di quelle canzoni dei singoli, più suonati proprio dalle radio a partire da domani, questo poi lo si sa, Maurizio, chi vince, è vero che vince lì, poi dopo bisogna vedere se vende, se le radio la passano la musica, quindi secondo me è lui uno di quelli che non è stato premiato dalla classifica, te che pensi? Guarda, io penso e ho sentito parecchi disappunti per il nono posto, ad esempio, di Rocco Hunt, e addirittura fischi per il sesto posto di Patti Pravo, qualche fischio si è udito, e poi, sì, anche Lorenzo Fragola, ma fischiare c'ero pure io, guarda, no, infatti te lo volevo chiedere, si sentiva il tuo fischio, infatti, comunque, e poi anche sto ragazzotto, Lorenzo Fragola, mi è dispiaciuto di arrivare, vabbè, quinto posto, però insomma, forse il podio se lo meritava, diciamo, non lo so, come la pensi? Ma guarda, Lorenzo Fragola, sarà che il cognome Strawberry mi fa venire in mente l'estate, hashtag forescia il sole, ma l'unico uomo, aspetta che togliamo la musica, maestro togli la musica, l'unico uomo, caro Maurizio, lo dico anche a quest'ora di notte, che nonostante c'è il cognome da Fragola, secondo me si mette il rossetto, l'ha detto la Jalapas, e io un applauso glielo faccio, un applauso glielo facciamo, Maurizio, perché secondo te se lo mette il rossetto oppure non se lo mette, io non lo so, però secondo me se lo mette. Beh, il dubbio c'era, il dubbio c'è, rimane, il dubbio rimane, Mauro, secondo me sì, hai ragione. I 42 minuti di Renato Zero ne vogliamo parlare, c'era uno vicino a me sulla serie che si era appisolato, per carità, bravo, però riattacca la musica, maestro, grazie, con questa si sta meglio. Eh no, infatti, bravo, bravo, no, ti volevo dire, eh sì, per quanto riguarda Renato Zero, diciamo, se cantava e faceva meno proclami, parlati, diciamo, forse se l'intervento sarebbe stato più breve, però insomma, vabbè, io penso, cosa hai intrapreso te dalle parole di Renato Zero? Ha detto praticamente con il suo nuovo album, Alt, proprio si sferma tutto, esce di scena. non lo so, lui, innanzitutto, mi ha colpito, perché ha fatto cantare il pubblico, l'ha fatto più di tutti, più della Pausini, più di Ramazzotti, la musica, è bello il messaggio, quello che ha detto, che possa accogliere i giovani, e che possa essere insegnata ai giovani, soprattutto ai bambinetti, parola propria romana, poi si è parlato di questa anteprima, che uscirà l'8 di marzo, Alt, e parla poi anche in maniera velata, io, insomma, della famiglia, che forse si affermi anche altrove, accennando con dei sottintesi allo status di famiglia allargata, punto, diciamolo chiaramente, punto focale del festival, con tutti questi arcobaleni, e non solo lì, perché se ne parla molto qui in Italia, visto che al Parlamento si sta proprio vedendo quello, quindi parla di quello, secondo me è stato grandioso, un romano generale dei sorcini, non lo so se si ritirerà, l'ha detto tanti di quelle volte, che oramai non ci crede più nessuno, guarda, senti, visto che ha l'orchestra accanto, non è che l'orchestra è pronta, magari a cantare una tua canzone preferita, di questo festival, che dici? L'orchestra adesso, un attimo che te lo chiedo, però non lo so se sia pronta, questa, me l'hai presa un po' così, inaspettata, ti faccio gli scherzi Mauro, lo sai, adesso vediamo se l'orchestra può essere pronta, non sarà mica semplice, sai, riuscire a trovare, no, mi dicono che per adesso, non lo so, sono stanchi, sono stanchi Mauro, ci stanno lavorando, abbiamo chiesto i tecnici di vedere se possiamo farlo, però non sarà semplice, sicuro ci sono stati dei proclami, già da ieri, nei giorni scorsi, della vera vincitrice, al di là della musica, perché di una vincitrice, al di là della musica, ce n'è stata una, ha fatto la Ferilli, ha fatto la Carla Fracci, ha fatto una Belen con tanto di farfallina finta, con il pollice all'insù, per le amanti dei social network, insomma voglio dire, vogliamo parlare di lei, cioè lei è stato un fenomeno, secondo me, che stasera, nelle vesti normali, della Virginia, era quasi, ha perso un po' del suo charme, se vogliamo, mi sbaglio? No, no, non ti sbagli assolutamente, è molto piacevole stasera, devo dire, non è che non mi era piaciuta le altre serate, ovviamente, però più naturale, più tranquilla, più, più lei, diciamo così, ma l'hai detto bene, già è proprio, mi è piaciuta molto stasera, sì, e spostandoci invece al maschile, vabbè, a me te ci interessa poco, però, questa giacca bianca di Gargo, e quel papillon rosso, sembrava più, come ha detto Pieraccioni, no? A me sembrava quasi che faceva, signori, vengono, vendiamo il gelato, per carità, non voglio rovinare le donne, lo adorano, solo loro, perché effettivamente, se lo mettevano in playback, avrebbe fatto più figura, però sinceramente, la sua ironia ha colpito, cioè, si è preso un po' in giro da solo, e quindi, alla fine possiamo promuoverlo, ecco, non voglio parlare di Maddalina, perché per questo, l'orchestra è pronta a suonare la musica di nuovo, vogliamo parlare dei vestiti di seconda serata, cioè, sono a letto i bambini da voi, Perché ancora siamo in fascia potente, ancora no, sono le 7.41, Mauro, non possiamo spareschere, assolutamente no, ecco, di sicuro mi dispiace un po' per Rocco Ant, perché lo sai, lui è diventato, lo posso, posso fare un promo, per il programma di chi si sveglia al mattino, e quelle che si sveglia al mattino lo sanno, cioè, Rocco Ant, con Wake Up, secondo me, poteva andare anche più su in classifica, fammi un po' vedere dove si è classificato, perché a memoria, hai visto che l'hanno detto adesso, Nono, è arrivato Nono, e un po' mi è dispiaciuto, anche se c'aveva quella giacca, non so chi l'era disegnata, però, insomma, stasera ho fatto la scelta, Mauro, durante la diretta, io ho scherzato, te eri a Sanremo impegnato a vedere, non nei camerini a rovistare, ovviamente, ma a parte le battute, io ho detto che la canzone Wake Up, l'ha scritta il nostro Mauro Carlini a Rocco Ant, ma certo, e la vogliamo cantare, come quelli che lo fanno al mattino, ma cantiamola, ecco, 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 un po' di pubblicità, vanno a fare, ma certo, Wake Up, Povero Rocco Ant, vabbè, però, secondo me, gliel'ho scritta io, infatti, se facevate caso, quando veniva citata, dicevano di Carlini, Rocco Ant con Wake Up, quindi, c'era lui, c'era lui, che l'ha cantata, insomma, tanti colpi di scena, tanti colpi di scena, nella classifica finale, ci dispiace molto, anche per Lorenzo Fragola, perché è vero che è arrivato molto in alto, al quinto posto, però i tre, più papabili, secondo, il mondo radiofonico, da cui appartengo da tanti anni, dovevano essere proprio, Lorenzo Fragola, poi, la Francesca Michelin, ed assolutamente, anche Alessio Bernabèi, con quel singolo, che si chiama, Noi siamo infinito, vedrete quanto andranno in su, queste canzoni, nelle classifiche, quindi, questo, lo dimostreranno, lo dimostreranno i fatti, ecco, esatto, e senti, un'altra domanda, per quanto, spostiamoci, verso, i giovani, i più giovani, sei contento, e sei, soprattutto, d'accordo, sulla vittoria, di Francesco Gabbani, con questo, testo, che fra l'altro, è stato dichiarato, appunto, è stato premiato, come miglior testo, del Festival di Staremo 2016, il titolo, Amen. Guarda, sinceramente, a me è piaciuto molto, un po' strana la storia, no, perché, era stato prima escluso, poi, l'hanno ripescato, una delle canzoni, che a me invece, è piaciuta tanto, dei giovani, è quella, con il testo, un po' forte, cantata da una ragazza, di colore, negra, no, di Cecil, quella è una, di quelle canzoni, che invece, sentendo, proprio nel backstage, sarà una di quelle, che verrà suonate, radiofonicamente, parlando molto, anche Mahmood, è piaciuto tantissimo, no, però a vincere, è stato Francesco Gabbani, mi metto una rima baciata, ma è una pubblicità, è meglio che non lo dico, vuol dire fiducia, Amen, no, sinceramente, una bella canzone, una bella interpretazione, l'ho anche detto, sul finale, chi ha consegnato, il premio, Sergio Bardotti, che è stato interpretato, in maniera magistrale, ci ha messo l'energia, Francesco Gabbani, no, e quindi, sì, una merita, dai, lo possiamo dire, mi dispiaciuto per Caccapo, mi sta simpatico, quel ragazzo, perché, però non lo avrei messo, tra i tre finalisti, però ecco, non è che decidiamo, né io, né Maurizio, né Fernanda, che saluto, che so che prima, avete duettato insieme, la saluto da Fernanda, prima non la sentivo, nel primo collegamento, quindi, chiedo scusa, ma, siamo in diretta, eh, lo so, lo so, Fernanda ha seguito tutti i festival di Sanremo, e, purtroppo, ha smesso qualche, un paio di ore fa, ma, comunque, ha seguito, sicuramente, alla radio, i discorsi, e tutto il festival, e, ero d'accordo, sono d'accordo con te, anche per quanto riguarda Cecil, praticamente, ho fatto il fischio alla radio, visto che non ero a Sanremo, quando è stata eliminata, perché, secondo me, la sua canzone, hai detto bene te, molto radiofonica, e andrà, ne sentiremo parlare, di questa, di questa giovane ragazza, sicuramente, Mauro. Secondo me sì, secondo me sì, perché, testo anche molto forte, no, che parla un po' di quello, che succede anche, in un'Italia, che è diventata multietnica, però, negli ultimi anni, ancora, forse, non ci siamo neanche troppo abituati, a questa, multietnicità, e, quindi, i giudizi, spesso e volentieri, specie nei piccoli centri, ancora ci sono, no, e lei quindi, si è messa sotto riflettori, quindi, insomma, volevo parlare di lei, perché mi è rimasta da subito, nelle orecchie, sai come si dice alla radio, di prima ascolto, mi è entrata subito, così come le tre canzoni, che avevo, di cui avevo parlato prima, beh, un festival bello, mi è piaciuto, dai, è stato bello, purtroppo solo oggi, perché gli altri giorni, ero da Roma, in diretta, quindi ho fatto questa, questo escursus, e, che altro, insomma, hai studato le cosiddette sette camicie, in questi giorni, duramente, e poi, giustamente, la serata finale, sei andato direttamente lì, e ti sei, diciamo così, sfogato, eh Mauro, che, mi sono sfogato, anche perché nel backstage, succede di tutto, ma io vorrei fare, e permettetemi, gente di, di Toronto, un applauso, al gobbista, cioè a quello che mette, il gobbio luminoso, che glielo ha spento, a Gabby Algarco, così almeno, non ha potuto leggere, l'applauso se lo merita, se lo merita, perché, l'avete visto, cioè, neanche certe volte, con il foglio davanti, che sfoglia così, neanche quello, meno male, cioè Gabby, no, non c'è, mi dicono che non c'è, quindi non si può offendere, però l'hanno preso in giro tutti, già l'appas, in primis, quindi, non penso che si possa offendere, dai, è stato sportivo, fino all'ultimo, quindi, esatto, se mi metto una mano addosso, mi sfigura, quindi, vabbè, dai, per finire, Mauro, perché io e te parleremo anche 3-4 ore, ci fosse la possibilità, due piccole domande, allora, le performance, diciamo così, che ci hanno fatto ridere tutto l'Arison, e anche noi, qui a casa, Leonardo, Pieraccioni, e Panariello, e la famosa foto con Carlo Conti, del 94, cioè, una cosa incredibile, eh, c'aveva pure tutti i capelli, era, era proprio, ne so qualcosa, sì, sono stati carini, amici da una vita, e amici sul palco, e questo si vedeva, si respirava, e una comicità diversa, da quella di Brignano, che ieri ci ha fatto prima, morire dalle risate, e poi ci ha fatto anche commuovere, questa è la capacità degli attori, che noi in Italia ce ne abbiamo tanti, forse voi Brignano, per esempio, non lo conoscevate, forse non ricordate bene Panariello, oppure, cioè, insomma, sono l'elite, questi sono veramente fuori classe, e Conti ha creato, secondo me, un altro format, che vedremo gli ascolti, e lo scopriremo tra poche ore, perché tra pochissimo i dati ufficiali saranno pubblicati, però ecco, un altro festival dei record, un altro festival, tutto da cantare, questo lo dobbiamo a un uomo, che arriva dalla radio, proprio come noi, perché è la radio, il cuore della musica, è la radio, che ve le porte in macchina, in casa, in ufficio, e la televisione, sì, vi racconta le storie, i film, le fiction, però la musica, è, secondo me, il pepe, le sfumature, i ricordi, le lacrime, la gioia, arrivano proprio dalla musica, se non ci fosse la radio, il mondo, secondo me, Maurizio, non sarebbe lo stesso, quindi, bravo a Carlo Conti, e bellissimi, i loro tre insieme, a me, ma a te ti piacciono in particolar modo, perché te sei della stessa zona, beh, li conosco bene, però mi sono emozionato anche, e poi concludiamo, eh Mauro, perché alle, mi ricordo ancora l'orario, alle ore 16, in Italia, negli anni 80-90, iniziavano i famosi cartoni animati, su Italia 1, ora facciamo pubblicità, e c'era questa ragazzottina, con la voce tenera, che appunto, cantava tutte le sigle, di questi cartoni animati, che noi guardavamo, non perdevamo una puntata, Cristina d'Avena, quindi, mi ha fatto tornare, veramente a quell'epoca lì, eh vabbè, siamo vecchi, Mauro, ma anche lì c'è di mezzo la radio, hai sentito che ha detto, Carlo Conti, grazie a Max Brigante, ed Andrea Pellizzari, due nomi fondamentali, nel panorama radiofonico italiano, Andrea Pellizzari, oltretutto, di derivazione, anche delle Iene, il programma famoso, famoso, lo sapete, su Italia 1, se non lo conoscete, ve lo diciamo noi, beh, oggi che poi, è anche stata la giornata mondiale, della radio, grazie, come ha detto Conti, a Guglielmo Marconi, hanno portato, per la loro idea, di due uomini di radio, uniti a Conti, Cristina d'Avena, che ha venduto, 7 milioni di dischi, cioè, e ci ha fatto cantare, io, ogni, a parte i puffi, ma qualsiasi canzone, cioè, io sono cresciuto, con Cristina d'Avena, tutti, anche la Parodi, lì in prima fila, che non era distante da me, tutti a cantare, cioè, vorrà dire qualcosa, no, questo, è stato un messaggio chiaro, ed un'idea geniale, di una gestione di Sanremo, incredibile, al di là delle canzoni, e della musica, anche gli ospiti, sono stati fenomenali, io, sono stato, particolarmente contento, di vedere, Ramazzotti, la Pausini, il Renato Zero, è stato, un bel festival, sì, molto bene. Direttamente da Sanremo, ragazzi, il nostro, Mauretto Carlini, che troveremo, eh, lunedì mattina, puntualissimo, nel suo, eh, diciamo, fra virgolette, magnifico programma, Wecap Italian Style, e con la partecipazione, di Rocco Ant, ovviamente, a questo punto, è etno, è per forza, e quindi, Mauro, noi ti ringraziamo, io, in particolare, ti ringrazio, per l'ottimo lavoro, svolto anche in questi giorni, a nome di tutti, perché, insomma, con le tue cose, che hai detto, con i tuoi interventi, proprio precisi, che c'è, proprio descritto Sanremo, come se eravamo, se fossimo veramente, a un, a un, cento metri da Sanremo, veramente grazie. L'ho dato 50 dollari, per dire questo, era tutto previsto, grazie Maurizio. L'ho persi, perché non li trovo più, e quindi, sì, sì, hai ragione, se volete sapere, le peggiori scarpe, i peggiori vestiti, le peggiori gaff, lunedì mattina, vi aspetto, eh, per Wecap Italian Style, e grazie a voi, adesso, però, l'ultima domanda, adesso mi mandate a dormire? Sì, ma, devi mangiare, te vai a letto senza, senza mangiare, quando ci mettevano, ma andiamo con dolce nera, abbiamo un tetto a tetto, e poi dopo vado a dormire. Eh, lo sapevo io, vabbè, Mauro, un grande abbraccio, grazie mille del tuo intervento, e a prestissimo. Da Sanremo è tutto, un bacio, ciao a lunedì, ciao Maurizio, grazie. Ciao Mauro, grazie. La canzone di Benji e Fede, New York, alle ore 7.56, minuti primi, il Festival di Sanremo è finito, vi ricordo il podio del Festival di Sanremo del 2016, primo posto, quindi medaglia d'oro per gli stadio, che hanno vinto il Festival di Sanremo con la canzone, Un giorno mi dirai, secondo posto per Francesca Michelin, terzo posto per Giovanni Caccamo, e Deborah Iurato. Il vostro Maurizio dopo questa lunga maratona, vi ringrazia, un abbraccio, vi dà appuntamento domattina alle ore 9 con Italian Graffiti, sempre qui su CineFM 100.7, copritevi, fa freddo, andiamo a mangiare, buon appetito a tutti, ciao a tutti da Maurizio.